Gravi ritardi e inadempimenti, così il Comune di Arezzo ha deliberato la risoluzione del contratto per via Fabio Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale. Un passo già annunciato dall'amministrazione, che adesso ha incaricato formalmente l'ingegner Serena Chieli di concludere il procedimento. L'avvio dei lavori risale all'autunno 2021, 6 milioni di euro di investimento per trasformare l'ex asilo nel nuovo comando. Il cantiere sarebbe dovuto durare un anno, ad ottobre 2022 era infatti prevista la consegna, ma nell'aprile 2021 lo stop dei lavori per via della scarsità di materiali e per i costi esplosi a seguito di Covid e conflitto in Ucraina. La realizzazione del nuovo stabile sarebbe dovuta avvenire attraverso un leasing incostruendo un meccanismo che aveva permesso di far passare la proprietà in mano ad un racgrupamento di imprese che avevano acquisito l'immobile dalla diocesi. Tutto però ad oggi è ancora fermo, mentre l'aria continua a versare nel degrado, come in più occasioni hanno denunciato i cittadini. Il cantiere ormai è una catturana del deserto, addirittura ci sta crescendo una vegetazione aliena, non si sa neanche che roba sia se guardate le piante. Poco sicuro ci sentiamo, qui c'è un casino alla notte, sopra quei contati dai gassi lì, quello che sta sopra, aprirà il sportello lì, pieno di siringhe, ma pieno. Il movimento c'è la sera, questo sì, c'è un bel po', ma anche durante il giorno, perché si mettono laggiù all'angolo, poi si mettono all'angolo di là con via Rismondo. Io mi auguro che facciano la svelta perché almeno possa servire come deterrente.